Milan dei non titolari non va oltre il pareggio e rimonta a Bologna, a Dallara finisce 1-1. Il turnover di Pioli in vista della Champions frutto un punto al quarto posto con la Roma. Rosso-blu tranquilli a quota 44, padroni di casa subito avanti, Porsche sfonda a destra, Sanzone anticipa tutti e segna, reazione rossonera, ma Skoduspi sblocca su di testa, di Rebic e vola su punizione di Florenzi. Il pari del Milan arriva con Boliden Mancino di Bodega, quarantesimo. Nella ripresa il portiere Feliceo sblocca un'incorata di ballo. Torre, un riballo tra Moro e Rebic, per poco non beffa Skoduspi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella, notifica e un commento. Ciao!